Roberto, dicevo piuttosto, parlava prima Davide del tornare bambino, quindi gli volevo fare un attimo, far fare un viaggio nel passato e prendete, ti arriva un saluto speciale dallo storico presidente del Maccarese Ricordi? Ah, come no, come no, certo, come posso dimenticare Dante, proprietario del famoso ristorante di Rubagalline Bravissimo Eh sì, facevamo delle belle mangiate lì, come no Ti ricordi un pochino di quegli anni? Eh sì, è il primo anno che io da 17 anni ho iniziato a giocare con quelli più grandi quindi era un po' complicato, anche se la categoria era quella che era ma per me lì già era qualcosa di importante giocare con giocatori molto più grandi quindi sono arrivato un po' a punto ai piedi perché diciamo in quelle categorie si gioca poco a calcio e parecchio a calci però mi ha aiutato anche nel proseguire la mia carriera per farmi crescere calcisticamente parlando sicuramente Grazie a tutti Grazie a tutti